Adesso vi faccio sentire un brano di Claude Balbatre tratto da un preludio, che è un brano che non avrebbe bisogno di presentazione, se non che è un'elaborazione di un famoso canto della rivoluzione francese, A Saira. Ascolteremo in questo brano i campanelli ai soprani con l'ottavino e il clarone bassi. A Saira A Saira